Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Dopo aver pubblicato i video sui carboidrati, nella seguente lezione parleremo di lipidi. Con il termine di lipidi viene indicata una classe di sostanze alquanto eterogenea, tanto che una classificazione univoca probabilmente non esiste. Una classificazione soddisfacente dei lipidi è quella che basandosi sulla struttura del loro scheletro li distingue in lipidi semplici e complessi in relazione al fatto che, se sottoposti a reazione detta disaponificazione, diano origine o meno a più molecole. In ogni caso, caratteristica comune dei lipidi sia di origine animale che vegetale è la loro completa insolubilità in acqua, dovuta dalla loro scarsa o nulla polarità delle loro molecole, che sono costituite principalmente da carbonio e idrogeno e in maniera minore da ossigeno. Pertanto risultano essere solubili in solventi organici apolari o di limitata polarità, come ad esempio l'etaretilico e l'acetone. I lipidi sono molecole polifunzionali, in quanto negli organismi viventi, come ad esempio il corpo umano, svolgono molteplici funzioni e vengono classificati in lipidi di deposito che, sotto forma di triacilgliceroli, vanno a costituire una riserva energetica dell'organismo. In molecole con funzioni strutturali delle membrane, come ad esempio il colesterolo e i fosfolipidi, sostanze di regolazione come gli ormoni e di veicoli delle vitamine liposolubili. Nel regno vegetale, i lipidi sono componenti protettivi delle pareti cellulari delle foglie delle piante superiori. I gliceridi costituiscono la categoria più diffusa e abbondante dei lipidi e sono i principali componenti dei grassi di deposito nelle cellule vegetali. Sono costituiti da glicerolo, un alcol trivalente legato attraverso un legame estere con acidi grassi. Gli acidi grassi saturi generalmente si legano al carbonio numero 1 e 3, mentre quelli insaturi al carbonio numero 2. Quando tutti e tre i gruppi ossidrilici del glicerolo sono esterificati con acidi grassi, il composto è detto trigliceride. I trigliceridi, che hanno un solo tipo di acido grasso in tutte e tre le posizioni, si chiamano trigliceridi semplici, che sono piuttosto rari, mentre quelli che contengono due o più acidi grassi diversi sono detti trigliceridi misti. I componenti fondamentali dei lipidi sono gli acidi grassi i quali possiedono una catena idrocarburica lineare che va da 3 a 36 atomi di carbonio, legata a un gruppo funzionale terminale detto carbossilico. La presenza di un gruppo carbossilico e una catena idrocarburica più o meno lunga rendono gli acidi grassi molecole anfipatiche, cioè se posta a contatto con l'acqua tendono a formare micelle, che sono delle strutture sferiche, la cui parte esterna è costituita dal gruppo carbossilico che è idrofilo, mentre la parte interna è costituita dalle catene idrocarburiche idrofobiche. La classificazione generalmente adottata divide gli acidi grassi in due gruppi distinti. Se la catena carboniosa non presenta doppi legami vengono definiti acidi grassi saturi. Se invece la catena carboniosa presenta uno o più doppi legami vengono definiti acidi grassi insaturi. Come detto in precedenza gli acidi grassi saturi non contengono alcun doppio legame. I più abbondanti in natura contengono tra i 12 e 24 atomi di carbonio e quelli con un basso numero di atomi di carbonio sono maggiormente presente nel latte e i suoi derivati. La lunghezza della catena carboniosa influisce notevolmente sulle caratteristiche chimico-fisiche dell'acido grasso. Ad esempio la loro solubilità diminuisce l'aumentare del numero di atomi di carbonio e il loro punto di fusione aumenta l'aumentare della lunghezza della catena carboniosa. Alimenti con elevate concentrazioni di acidi grassi a lunga catena, cioè tra i 16 e 24 atomi di carbonio, conferisce all'alimento maggiore concretezza, mentre se la concentrazione di acidi è in prevalenza formata da catene carboniose tra i 10 e 14 atomi di carbonio, conferisce all'alimento una maggiore fluidità. Nei grassi animali gli acidi grassi saturi maggiormente presenti sono il palmitico a 16 atomi di carbonio e l'ostearico a 18 atomi di carbonio. Gli acidi grassi insaturi prevalgono generalmente nei vegetali e nei pesci e presentano la caratteristica di avere uno o più doppi legami lungo la catena carboniosa. Si definiscono monoinsaturi se hanno un doppio legame, poliinsaturi se presentano due o più doppi legami. Essi possono essere identificati mediante un sistema di nomenclatura in cui vengono specificati il numero di atomi di carbonio, il numero dei doppi legami e la loro posizione. La presenza del doppio legame viene indicata con il simbolo delta al cui fianco sono indicati dei numeri che si riferiscono alla posizione dei doppi legami lungo la catena carboniosa. ad esempio l'acido linoleico si indica con C18 2.2 delta 9 e 12 dove 18 indica che l'acido linoleico è formato da una catena di 18 atomi di carbonio. Il numero 2 indica la presenza di due in saturazione cioè di due doppi legami tra l'atomo di carbonio numero 9 e 10 e tra il carbonio 12 e 13. La numerazione degli atomi di carbonio parte dal gruppo carbossilico. I nutrizionisti invece preferiscono classificare gli acidi grassi a partire dal primo carbonio metilico che viene indicato con la lettera omega. In questo caso si considera il primo doppio legame a partire dal carbonio opposto a quello carbossilico. Così ad esempio l'acido linoleico appartiene alla serie omega 6 in quanto il doppio legame si trova sul carbonio numero 6. In natura gli acidi grassi più comuni sono il palmito oleico e l'acido oleico. Quest'ultimo si trova in tutti gli oli vegetali ma è predominante nell'olio d'oliva la cui concentrazione può variare tra il 65 e l'80% ma si trova anche nell'olio di semi di arachide con una percentuale di circa il 60%. Gli acidi grassi insaturi sono tutti in una configurazione chiamati cis. Cis significa che i due idrogeni legati ai carboni del doppio legame sono posti dalla stessa parte mentre la presenza di acidi grassi in configurazione trans con gli idrogeni posti dalla parte opposta del legame è del tutto trascurabile. Si ritiene che la presenza di acidi grassi nella forma trans degli alimenti come ad esempio le margarine possono essere potenzialmente dannosi al nostro organismo. Tra gli acidi grassi troviamo quelli che vengono chiamati grassi essenziali. Sono costituiti dei seguenti acidi grassi polinsaturi, l'acido linoleico della serie omega 6 e l'acido linolenico della serie omega 3. Entrambi sono definiti essenziali perché non sono sintetizzabili dal nostro organismo e pertanto devono essere introdotti attraverso la dieta. Anche l'acido arachidonico si può considerare un acido grasso essenziale in quanto l'organismo umano lo può sintetizzare a partire dall'acido linoleico. Gli alimenti particolarmente ricchi di questi acidi grassi sono gli oli di oliva e il pesce azzurro. Gli acidi grassi essenziali svolgono un ruolo biologico molto importante in quanto sono i costituenti della membrana cellulare e a livello del sangue ostacolano la deposizione di colesterolo nelle arterie prevenendo quella che viene chiamata arteriosclerosi. Inoltre questi grassi essenziali sono i precursori delle prostaglandine, dei leuquotrieni e dei trombossani che hanno una varia attività biologica in quanto influenzano l'aggregazione piastrinica, favoriscono la contrazione della muscolatura liscia, intervengono nei processi antinfiammatori e immunitari. Tra i lipidi troviamo anche le cere che sono strettamente affini per struttura e proprietà ai gliceridi e solo miscele complesse di esteri di acidi grassi con alcoli ad elevato peso molecolare, aventi generalmente da 26 a 34 atomi di carbonio. Le cere le troviamo come rivestimento protettivo delle foglie e dei frutti delle piante superiori. Esse vengono prodotte anche dalle api e non rivestono alcun interesse di natura alimentare. Anche se non settamente affini a lipidi ma ad essi associati troviamo un gruppo di sostanze chiamate terpeni. Essi sono costituiti da multipli dell'idrocarbura 5 atomi di carbonio chiamato isoprene. I terpeni che contengono due unità di isoprene si chiamano monoterpeni, quelli che ne contengono 3 si chiamano sequiterpeni e quelli che ne contengono 4, 6 ed 8 si chiamano rispettivamente diterpeni, triterpeni e tetraterpeni. Essi vengono prodotti da molte piante soprattutto dalle conifere e sono i componenti principali delle resine e degli oli essenziali delle piante. Molti di questi emanano odori e profumi caratteristici e sono i principali componenti dei cosiddetti oli essenziali derivati dalle piante. Ad esempio il geraniolo, il limonene e il mentolo sono rispettivamente i principali componenti dell'olio di geranio, di limone e di menta. Molti aromi usati nei cibi o nei profumi sono derivati da terpeni naturali. Altri terpeni superiori comprendono i carotenoidi che sono dei potenti antiossidanti e sono dei tetraterpeni. Un carotenoide importante è il beta carotene che dà origine a due molecole di vitamina A detta anche retinolo. I carotenoidi sono pigmenti liposolubili diffusi nel regno vegetale e conferiscono a certe piante o a parte di esse il caratteristico colore che va dal giallo al rosso e sono particolarmente abbondanti nei fiori e nei frutti come ad esempio il pomodoro e la carota. Anche la gomma naturale è un politerpene consistente di lunghe catene idrocarburiche contenenti migliaia di unità isopremiche disposte con regolare ordine lineare. Tra i lipidi abbiamo gli steroli che formano un gruppo importantissimo di composti dotati di funzioni biologiche specifiche e complesse e si trovano sia nel mondo animale che vegetale. Il colesterolo è il principale sterolo presente nei tessuti animali ed è chimicamente un alcol secondario tetraciclico. Presenta una regione polare e una apolare. Nel nostro organismo può trovarsi sia libero che combinato con acidi grassi ed è presente in tutte le cellule dell'organismo ed è particolarmente abbondante in quelle del sistema nervoso. Il colesterolo non è presente nel mondo vegetale in quanto è un tipico prodotto del metabolismo animale. Si trova pertanto in tutti i cibi di origine animale come la carne, il latte, il burro e le uovo. Il colesterolo è una molecola di grande interesse biologico in quanto è un componente delle membrane cellulari ed è il precursore degli ormoni steroidei, degli acidi biliari e della vitamina D. Da esso derivano tutti gli ormoni steroidei dell'organismo umano che hanno un ruolo determinante per quanto riguarda lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e interviene nel ciclo riproduttivo delle donne. Tra gli ormoni androgeni ricordiamo il testosterone e tra quelli estrogene il progesterone. Il colesterolo se consumato in dosi eccessive a seguito di diete troppo ricche di derivati animali si concentra nel sangue e quando supera il valore soglia di 200 mg decilitro diventa un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari come ad esempio le lesioni coronariche che possono degenerare in trombosi o infarto del miocardio. Tra i lipidi annoveriamo i fosfolipidi benché siano presenti nei grassi alimentari in piccole quantità sono molecole molto importanti da un punto di vista biologico. Sono i componenti fondamentali delle membrane cellulari e si trovano sia nei tessuti animali che in quelli vegetali e costituiscono una parte essenziale delle cedule viventi. Sono molecole anfipatiche aventi la testa polare e la coda idrocarburica apolare. Essi vengono divisi in glicerofosfolipidi e spingolipidi. I glicerofosfolipidi sono costituiti da glicerolo fosfato in cui gli atomi di carbonio numero 1 e 2 sono legati ad acidi grassi che possono essere sia saturi che insaturi. Al gruppo fosfato è legata una sostanza polare. Nelle lecitine ad esempio troviamo la colina mentre nelle cefaline possiamo trovare l'etanolammina o la serina o l'inositolo. La presenza di questi acidi grassi insaturi è necessaria per determinare il corretto grado di fluidità delle membrane biologiche ed assicurare gli scambi tra ambiente interno ed esterno. I più abbondanti fosfolipidi sono le lecitine presenti in numerosi alimenti come il tuorlo d'uovo, semi di soia e di leguminose. Spesso vengono utilizzati come additivi di integratori dietetici in quanto componenti delle proteine HDL. Contribuiscono alla rimozione del colesterolo dalle arterie. Gli spingolipidi sono costituiti dalla spingosina, un amminoalcol sintetizzato dall'organismo umano e come base la serina. Circa il 10% della membrana plasmatica è costituita da spingomieline, di cui è particolarmente ricca la guaina mielinica delle cellule nervose. I glicolipidi sono lipidi complessi contenenti una molecola di spingosina, una molecola di acido grasso e una di un carboidrato. Essi abbondano nel tessuto nervoso e dei globuli rossi dove svolgono la funzione di recettori molecolari. Nei globuli rossi svolgono anche la specificità dei gruppi sanguigni.